Eleggere una classe dirigente con l'obiettivo di mettere il massimo impegno su importanti temi quale il PNRR, la riforma della giustizia o i giochi del Mediterraneo, i tesserati salentini di Forza Italia si sono dati appuntamento nella mattinata di sabato per il congresso provinciale, nel segno dell'unità all'interno del partito e del sostegno reciproco tra le forze di centrodestra, alle prese anche con importanti e imminenti impegni elettorali. Gli obiettivi sono quelli di celebrare intanto il nostro congresso nazionale che vedrà l'elezione del nuovo segretario nazionale, il candidato è Antonio Tagliani, il nostro leader. Abbiamo anche elezioni importanti, le europee che sono per noi la battaglia delle battaglie perché Forza Italia si deve consacrare protagonista del Partito Popolare Europeo a livello nazionale e ovviamente europeo e poi le amministrative. In Puglia in particolare guardiamo con attenzione ovviamente al Comune Capologo di Regione a Bari e al Comune Capologo di Provincia a Lecce, abbiamo tanti altri comuni e tanti candidati consiglieri comunali, assessori, sindaci che sicuramente Forza Italia riuscirà a far eleggere insieme agli amici della coalizione. Unica mozione è stata quella di Paride Mazzotta che torna alla guida di Forza Italia in provincia di Lecce prendendo il testimone dal commissario Andrea Caroppo. Una bella festa di democrazia perché anche se si è concluso senza una votazione da due mozioni certamente abbiamo dato un segnale importante, Forza Italia in provincia di Lecce è ripreso a dialogare alla grande, Forza Italia vuole dare un segnale forte per le prossime impegni elettorali, Forza Italia riparte dal territorio. Abbiamo bisogno di maggiore forza su questo territorio e quindi lavoreremo tutti insieme, andremo nei territori, affronteremo i temi. Forza Italia riprende veramente a fare la politica del territorio come abbiamo sempre fatto perché non abbiamo mai smesso, quindi con maggiore forza, con maggiore enfasi ci presenteremo ai prossimi appuntamenti elettorali.